La denuncia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è un'importante occasione per cambiare i nostri sistemi alimentari. Un consumo eccessivo di carne non fa bene, ma non fa bene non solo alla nostra salute, non fa bene al pianeta, non fa bene al benessere animale. Questo uso, consumo di carne eccessivo sta generando degli sconquassi, allevamenti intensivi, forme di crescita degli animali non in armonia con la natura, stanno provocando malessere negli animali, ma anche malessere per l'ambiente, per la natura. Quindi il cambiamento di stile, di vita, la riduzione del consumo di carne farà bene a tutti. Dobbiamo approfittare di questa denuncia per rivolgerla in positivo. È importante che la riduzione del consumo di carne voglia anche dire un cambiamento di produzione della carne. E questo non è uguale in tutto il mondo, perché in alcune parti del mondo è ottenuto con produzioni intensive, in altre parti del mondo più con rispetto verso la natura e verso gli animali. L'occasione è buona per cambiare stili di vita. L'occasione è buona per cambiare stili di vita. L'occasione è buona per cambiare stili di vita. Grazie.